Un braccio di ferro che si rinnova ormai da qualche stagione. Partita Tania Poutyainen a 25 centesimi di vantaggio su Susanne Risch che si trova al comando. Chiara Costazza conserva l'undicesimo posto attualmente. E qui sai, i calcoli non bisogna farne tanti. E non ne sta facendo infatti, è partita tutta. Rischi di vedere il podio dal basso oppure dal parterre. E bisogna darci dentro e con precisione, ma questi sono atlete di altissimo livello con grande esperienza. Tre decimi. L'entrata sul ripido. Qualcosa ha guadagnato. Qualcosa ha guadagnato, sta sciando molto bene. Qui si sta abbassando un po' troppo però sicuramente riesce a riportarsi sullo sci. Questo è il tratto importante per prendere velocità per il tratto finale. E l'ha fatto bene, ha mantenuto una buona linea, il giusto anticipo. Ha superato l'ostacolo più duro e adesso si va ad avviare al traguardo per passare al comando. 17 centesimi, esplode il tifo ovviamente della campionessa di casa, con lei che ha portato, se vogliamo, questa gara che state vedendo in Finlandia. Giusta soddisfazione, giusto riconoscimento del suo pubblico perché le capita una volta all'anno di gareggiare in casa e quindi è una soddisfazione doppia. e adesso alle due signora e signorina che sono al cancelletto di partenza bisogna uscire subito con le idee chiare.